E' mai pensato di realizzare un video istituzionale, uno spot per la tua attività, un videoclip, un docufilm o altro? Rivolgiti a noi, contattaci adesso per richiedere un preventivo. Potrai contare su operatori video, piloti drone APR, doppiaggio audio, servizi fotografici, riprese video e montaggio, color correction, animazioni logo, regia e video multicamera, streaming eventi, wedding movie. Un team di professionisti alto servizio 7 giorni su 7 su tutto il territorio nazionale. Vai adesso su www.operatorevideoroma.com www.operatorevideoroma.com